Ok, prima di iniziare vogliamo dare questa pergamena di riconoscimento a un'attestata di stima al maestro Antonio Piccinino per l'impegno profuso nella valorizzazione e nella divulgazione della tradizione popolare garganica. Il raduno di Sonato di Parantale. Grazie a tutti. Ora ci facciamo ascoltare qualche sonetto. Sì, infatti, ci dovremmo un pochino allontanare tutti quanti. E vediamo meglio. Se cerchi più l'arco, se cerchi più l'arco, si vede meglio. Non c'è più aria che quella, che è anti-arco. Dai, dentro, vai. L'arco! Stiamo meglio, non stiamo meglio. Stiamo meglio, non stiamo meglio. No, non stiamo meglio. Non stiamo a怎么了, non stiamo immermuso geteco. No, non stiamo meglio. Siamo iniziando a physically incontelfando. Mi spiegherò i autobus, ma loro non è batteri. Non ho deciso di scripire la paura, ma quana una volta è pelle, che mi rappresce di sennại, che mi racconta di prendermi iرضi. Fu una volta è spagliare col pallone pregno, e copeti differenzi, serve happeni di tutto. e la città è rossa, e la città è rossa, e la città è rossa, tutta la bombosa lì, la mattina ci metterà, la città è un pregoio, e tutti i lavori andranno, la città è rossa, e la città è rossa, e faccio un po' la città, non c'è bella la pupa di petto, non c'è bella la pupa di petto, non c'è bella la pupa di petto, ci brillino, ci starino, ci la sperano mamma, ci starino mamma, la città è rossa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.